Musica Benvenuti a tutti al nostro approfondimento, al nostro spazio dedicato all'attualità politica oggi ci occuperemo delle primarie del Partito Democratico e del centro-sinistra che si terranno il prossimo primo marzo qui con noi uno dei candidati alla corsa per diventare Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli parliamo un po' di lei, lei è un professore di matematica che ancora anche durante questi giorni di frenetici di campagna elettorale sta sui banchi di scuola, ci racconti un po' chi è e perché ha deciso di intraprendere questa avventura Sono un insegnante, ho 48 anni, sposato, due figli, una bellissima esperienza nel Comune di Pesaro come sindaco per 10 anni e adesso provo questa avventura delle primarie per la Regione Marche per provare a portare in regione un'esperienza che è quella di sindaco con l'obiettivo di cambiare, di offrire un modo diverso di interpretare il governo regionale e attraverso proprio la visione, il punto di vista del sindaco, avere una regione più vicina ai cittadini che con loro dialoga, che con loro affronta in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo sperando di poter costruire un futuro migliore Il suo slogan è il sindaco delle Marche, che significa, quale messaggio vuol dare anche se già in parte lo abbiamo intuito dalle prime sue parole? Lo sentito in questi giorni da parte dei cittadini marchigiani, delle imprese, del mondo delle associazioni un giudizio quasi unanime nella percezione della Regione come qualcosa di molto lontano, molto distante Un governo che è un po' centrato su se stesso, che ha lavorato in questi cinque anni con luci e ombre ma non è stato in grado di coinvolgere nel governo i territori, i primi cittadini e tanti soggetti che qui vivono e operano Il sindaco è invece di una politica che ha la capacità di far partecipare alle scelte più importanti di condividere strategie e soprattutto in un momento in cui è necessario un grande cambiamento perché è una Regione provata dalla crisi, molte imprese sono state chiuse e c'è bisogno di una fase nuova, una fase di rilancio, di crescita economica, di nuova occupazione Ci sono difficoltà nel campo della salute, tanti cittadini che reclamano un diritto della salute più forte anche qui è necessario un cambiamento Bisognerà fare delle scelte e quando si deve scegliere una cosa è farlo, chiamiamoli per conto proprio una cosa è farlo insieme ai tanti protagonisti della vita dei nostri territori C'è immaginare che da qui a pochi anni la Regione venga percepita come un soggetto vicino con il quale si possono condividere anche scelte difficili ma in grado di cambiare le cose Lei è stato sindaco di Pesaro per dieci anni, abbiamo detto in particolare hanno scritto su diverse pagine di giornali che sarebbe la prima volta che un sindaco diventa presidente della Regione cioè che un presidente della Regione in qualche modo sia arrivato a questa carica facendo il sindaco e ricoprendo la carica di primo cittadino Che differenza può fare secondo lei? Le prime volte sono prime volte da diversi punti di vista perché è anche la prima volta che si utilizza lo strumento delle primarie per scegliere il candidato quindi il primo marzo tutti coloro che si andranno si recheranno presso i seggi che verranno costituiti in tutta la Regione ci sarà la possibilità di dire la propria, di scegliere la persona un po' come si fa ormai in tanti ambiti anche questo La particolarità della visione di un'esperienza amministrativa secondo me è soprattutto nella concretezza cioè l'abitudine non solo di vedere un problema, magari non solo di enunciarne la strategia in termini obiettivi ma soprattutto il desiderio di vedere la cosa risolta concretamente Prendiamo una delle cose che sta a cuore ai marchigiani, penso il tema delle liste d'attesa in sanità Capita spesso di incontrare delle persone che hanno bisogno di una visita e che ti dicono ho chiesto per poter fare questo esame, mi hanno detto nel mese di marzo, poi hanno giunto il 2016 e nelle marche ormai ci sono liste d'attesa che durano più di un anno Il punto di vista del sindaco è quello di chi applica nella propria politica la concretezza la capacità di voler affrontare il problema della salute e accorciare quel tempo cioè fare in modo che in un periodo ragionevole si possa arrivare a una risposta che dica poche settimane e permette al cittadino di sentirsi sicuro, senta che è veramente per lui quel servizio e vede nella regione un soggetto in grado di produrre risposte Sono circa due settimane che è partito il percorso delle primarie e quindi anche la sua campagna elettorale i temi principali che in qualche modo stanno emergendo in questa campagna di ascolto perché appunto lei è in giro per il territorio marchigiano per fare delle iniziative insomma, quali sono i temi che più sente che toccano di più la vita dei cittadini? Allora, i temi toccati sono tanti, poi dipende da alcuni comuni a tutte le regioni altri specifici di alcune realtà, ad esempio un tema molto diffuso è quello della burocrazia si sente rispetto alle procedure della regione per prendere un finanziamento per avere una risposta rispetto a una iniziativa che un'impresa, un cittadino porta un carico burocratico notevole è rimasto impresso un agricoltore del Piceno che raccontava di 15 kg di carta per ottenere un finanziamento della regione una piccola realtà produttiva, una burocrazia enorme e il desiderio di vedere da parte della regione che ha proprio come primo compito quello di fare leggi, di fare buone leggi il discorso di vedere una semplificazione dal punto di vista normativo poi sulla burocrazia si ritrovano tutti il sindaco di Senigallia che chiedeva di semplificare le procedure per pulire i fossi, per quella che è la difesa del suolo oppure il sindaco di Porto San Giorgio che credo abbia in comune qualcosa col sindaco di Fano sul tema del dragaggio del porto il dragaggio dei porti che è un dramma un po' in tutta la regione e anche qui c'è un carico burocratico spaventoso spese enormi di studi e di procedure che invece potrebbero trasformarsi con una procedura semplificata in maggiori risorse, in maggior rapidità per intervenire ogni volta che c'è questo carico burocratico enorme si perdono opportunità in termini di lavoro, di sviluppo, di crescita è un grande freno per il rilancio dell'economia allora una regione che cambia è una regione che riesce a combattere in maniera efficace il problema dell'eccesso burocratico Il tema della sanità, immagino che sia anche questo un altro tema che ogni giorno vediamo sui giornali viene affrontato anche dagli amministratori locali Il tema dell'ospedale nella nostra provincia è uno dei temi che in qualche modo sta emergendo in questi mesi Cosa ne pensa? Cosa farà lei? La prima cosa interessante noi in questo territorio conosciamo molto bene il tema del problema della sanità prima ho citato la lista attesa potrei citare la mobilità passiva cioè i tanti che per trovare una risposta di salute devono andare nella vicina Romagna potrei citare il problema delle spese sanitarie di chi dopo aver ricevuto una risposta che dice torni fra mesi tira fuori i soldi del portafoglio paga e in pochi giorni nella stessa struttura che ha rinviato la visita trova la risposta e il problema delle strutture ospedaliere è un fatto significativo da noi dove pesano un ospedale che ha più di 100 anni fa ne abbia un'ottantina la necessità di mettere mano a queste due infrastrutture ormai presenti da anni in regione che non ha trovato risposta non è sola nel panorama regionale a Camerano c'è un ospedale in cui è stata messa la prima pietra e si dice si è fermati a fermo è stato progettato è spesi milioni per il progetto del nuovo ospedale e anche quello ho visto i finanziamenti arrivare e andare via nel sud delle Marche vogliono un progetto come qua di sintesi un grosso progetto provinciale a servizio di tutto il territorio della provincia e anche lì nulla cioè sul piano sanitario veramente grandissime difficoltà sul campo dei servizi dove va recuperata questa risposta più efficace ai bisogni dei cittadini ma anche una grande distanza sul piano delle infrastrutture che sarebbero importantissime anche per sconfiggere la mobilità passiva per concentrare le risorse e dare più qualità nella risposta sanitaria è un dramma un po' in tutta la regione è evidente che da questo punto di vista c'è un grande lavoro da fare riprendere il tema dei servizi prima di tutto e poi anche quello delle infrastrutture perché giustamente dare oggi una casa efficiente, moderna, di qualità permette di migliorare i servizi per i cittadini del territorio ma anche di evitare i lunghi viaggi fuori regione per trovare una risposta di cui potrebbero avere soddisfazione qui Quali sono i tre provvedimenti che farà se dovesse diventare governatore? Il primo tema è quello di riorganizzare la struttura regionale perché volendo dare una prospettiva di cambiamento bisogna iniziare a cambiare le cose dalla testa quindi una struttura che sia più orientata al risultato che quando fa una legge la faccia pensando chi la deve applicare quindi più efficace, più semplice e meno burocratica quindi una bella rimescolamento di ruoli sia nella sanità che nella struttura legislativa proprio per premiare il merito tirar fuori le persone che hanno capacità di raggiungere quegli obiettivi che dicevo e dall'altra parte quindi avere una struttura orientata sul progetto di una nuova regione una cosa che mi piacerebbe fare riguardo al tema della casa abbiamo secondo me una grande opportunità di recuperare attraverso il patrimonio ERAP dismettendone una parte importante risorse per dare una risposta a un bisogno che tanti cittadini nelle Marche hanno che è quello della casa un'iniziativa da prendere subito un'iniziativa anticiclica che permetterebbe di mettere in moto importanti risorse in un settore fortemente in crisi non tanto per costruire case nuove ma quanto per recuperare tutto quell'invenduto che è ben presente anche nel nostro territorio che potrebbe attraverso meccanismi di dirizia pubblica rispondere anche ai bisogni di tante famiglie quindi una misura che rilancia l'economia e dà una risposta concreta ai cittadini che hanno bisogno insomma da questo punto di vista poi sul lavoro e la formazione anche in questo momento ci sono imprese all'interno della regione che hanno bisogno di mano d'opera noi abbiamo un tasso di disoccupazione molto alto e imprese che non trovano personale che ha le qualifiche per poter essere inserito nel loro ciclo produttivo la formazione non può servire per fare oggi figure magari del destino incerto in tema occupazionale ma dovrà essere concentrata innanzitutto da dove possiamo far incontrare la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro già oggi disponibile sono azioni da fare subito da mettere in campo in maniera immediata per rispondere ai bisogni che ci parlano di casa, di lavoro e di una riorganizzazione della macchina regionale che può dare una grande spinta diciamo a recuperare il terreno perduto sul piano della burocrazia una rivoluzione come spesso lei utilizza spesso questa parola io credo che chi condivide queste difficoltà cioè chi si rende conto che serve una stagione nuova in regione deve pensare a un forte cambiamento è difficile che con piccoli aggiustamenti si riesca a ottenere quello che non si è tenuto fino ad oggi la chiamo una rivoluzione da due punti di vista il primo è proprio un cambiamento nel rapporto con i territori si immagina un governo della regione che vicino i sindaci, gli amministratori, i cittadini, le imprese alle realtà associative e con loro costruisce il cambiamento un grande progetto strategico per il cambiamento della regione da fare insieme e dall'altro il cittadino che diventa l'oggetto delle nostre politiche se noi parliamo di diritto allo studio parliamo pensando a quei studenti che hanno capacità, qualità, merito e non è possibile che non ricevano la giusta attenzione il loro percorso di crescita da un punto di vista culturale perché poi sarà lì nell'innovazione la qualità dell'alta formazione che riusciremo a giocare le partite più importanti domani e deve sentire questo soggetto quello che ha bisogno di salute quello che ha necessità della casa la regione di lavoro la regione è come un soggetto vicino che lo mette al centro delle sue politiche e dice ho fatto bene quando qualcuno ha trovato lavoro ha trovato una casa ha una risposta in termini di diritto allo studio cioè sente che le sue necessità trovano una corrispondenza nelle politiche della regione in questi anni abbiamo assistito a una disaffezione dei cittadini verso la politica perché secondo lei bisognerebbe andare a votare il prossimo primo marzo? la cosa giusta è che probabilmente quella parte di cittadini che il primo marzo sono quelli che più naturalmente potrebbero partecipare quelli che sono i più insoddisfatti che vorrebbero vedere queste risposte e quindi che hanno bisogno del cambiamento sono quelli un po' più a rischio quelli che possono facilmente invece sentire la sfiducia la lontananza delle istituzioni pensare che le cose non possono cambiare e che chiunque andrà al governo della regione Marche si occuperà di altro e non si occuperà di loro il mio messaggio soprattutto a questi vorrei che il percorso delle primarie la partecipazione delle primarie fosse anche un modo per rinnovare una fiducia, una speranza nella possibilità invece di cambiare le cose e di ottenere più attenzioni più risposte e costruire insieme un futuro diverso per la regione Marche tornerà a fare il professore e cosa spera a fin in po' alla fine di tutto questo percorso? una politica credo come la intendiamo oggi deve essere una politica sobria che utilizza le risorse pubbliche con molta attenzione un po' come fanno normalmente gli amministratori e i sindaci deve essere una politica anche chiara nel momento in cui vince la proposta di cambiamento è giusto impegnarsi se dovesse vincere una proposta di continuità è giusto che chi vince vada avanti le primarie devono servire a permettere ai cittadini di scegliere e ci sarà il massimo rispetto della loro scelta se sceglieranno il cambiamento andrà avanti il cambiamento negli uomini, nelle idee, nelle proposte se sceglieranno la continuità sarà una stagione per altri e non mi peserà tornare cioè continuare direi più che tornare a fare l'insegnante Bene, in bocca al lupo al nostro ospite per la campagna che ancora da qui al primo marzo dovrà affrontare ricordiamo che si vota potranno votare tutti quanti tutti i cittadini marchigiani il primo marzo dalle 8 alle 22 tutti i seggi saranno visibili sui siti internet del Partito Democratico regionale grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti